Da un punto di vista pubblicitario, quali sono i primi risultati che questo sistema, questo approccio internazionale sta generando al gruppo? Voglio dire uno per tutti, senza mancare di riguardo a tutti gli altri, le quarti copertine del resto di eccellenza Italia è prenotata da Prada, che è la società che più conosce l'Asia, che sta mettendo successi strepitosi e che ha valutato che l'iniziativa fosse di estremo interesse proprio per la bivalenza che ha, perché naturalmente a Prada non manca la possibilità di visibilità sui media cinesi per quello che hanno investito e quello che rappresentano, ma il fatto che poi ci sia un giornale che viene dall'Italia e un sistema che viene dall'Italia incentiva molto. Però si arriva al fatto che il direttore generale dell'Agenzia del Turismo di una regione molto progredita italiana, mi ha chiamato dieci minuti fa, aveva saputo dell'iniziativa e vuole investire per offrire quelle che sono le opportunità. Non è una regione dove direttamente i cinesi in questo momento vanno, però hanno capito che con eccellenza Italia possono esercitare un'attrazione. E' frequente il caso, mi piace ricordare l'esempio, sono andato poche sere fa all'evento che c'era da Frau insieme a Frescobaldi per il vino luce, l'amministratore delegato di Frau mi ha segnalato che lì c'era il loro primo cliente cinese e che si è rappresentato a lui con la coppia di Eccellenza Italia che aveva trovato in Cina e poi l'aveva ritrovata al Diana Majestic. Il sistema funziona. Il sistema funziona, questo succede molto spesso anche all'interno della Rinascente che si presentino con il giornale perché hanno visto un vestito, un oggetto che gli interessa. Ma pubblicitariamente quanto vale e soprattutto quanto potrebbe valere? Avrete immagino fissato degli obiettivi, delle stime? Beh, diciamo oggi vale sicuramente molto di più in questo momento di qualsiasi periodico che è distribuito in Italia. Questo è sicuro, perlomeno del nostro gruppo. Credo che lo sviluppo sia molto anche sul piano digitale, quindi diciamo si supera il discorso delle pagine che sono fisiche sul magazine ed è un'operazione di alcuni milioni e quindi diciamo quanto mai positiva anche perché gode e quindi mette a profitto l'esperienza e il lavoro che viene fatto anche per gli altri giornali. Qualche milione di fatturato già acquisito con un obiettivo? Beh, gli obiettivi sono senza limiti. È chiaro che quando il discorso cresce come numero di cinesi che vengono in Italia noi dovremmo essere già oggi in grado di coprirli tutti con 200.000 copie e più le due versioni digitali ogni due mesi. Tornando al mercato italiano, come vede questo momento così difficile per tutta l'editoria? Abbiamo appena pubblicato i dati sulla recente trimestrale. Quale visione ha per il prossimo futuro? Dunque, è chiaro che fino a quando non ripartano i consumi il mercato sarà in difficoltà, ma i consumi non ripartiranno fino a quando non ripartirà un massiccio, una massiccia crescita dell'investimento pubblicitario. Per cui credo che sia necessario che si arrivi a una iniziativa di defiscalizzazione dell'investimento pubblicitario. Noi siamo stati molto attivi in questo senso anche con la federazione degli editori che recentemente ha annunciato proprio su un'iniziativa che era partita da noi di similitudine con il quanto è avvenuto per le produzioni cinematografiche. Io credo che, siccome la cosa, nell'ipotesi che è stata fatta, nel disegno di legge che è pronto, che conosciamo nei dettagli, è previsto soprattutto la carta stampata in prima battuta, che è quella che non percentualmente ma anche come dimensionalmente è quella che da più tempo soffre di più. In realtà è un'operazione minima se si guarda al beneficio che ci può essere per il sistema, perché vale circa 280 milioni di credito di imposta. Quindi si tornerà a ricostruire il valore perduto, come accennava lei. Chi sopravviverà in questo contesto? Come al solito sopravvive chi è più resistente, chi ha più mezzi, chi ha più idee, chi ha più creatività e chi ha poi la possibilità anche di immaginare delle soluzioni che in tempi tranquilli non avrebbe mai immaginato. Sarebbe forse illusorio pensare, soprattutto per il mondo interno della pubblicità, quelli che vendono la pubblicità ma anche quelli che la comprono, che il mondo sarà uguale a prima. Questo non sarà assolutamente più possibile. Prima purtroppo era molto, dal lato di chi vende la pubblicità, raccolta. della pubblicità, tant'è vero che la classificazione, la raccolta pubblicità è stata tolta. Invece la vendita è un'altra cosa, vuol dire una capacità non soltanto di muoversi, ma di conoscenza delle esigenze del cliente, quindi di creatività. E questo sarà sempre di più possibile, anche perché c'è un forte spostamento sugli eventi. Allora se uno non vuole perdere tutti gli investimenti degli eventi, deve capire come può rendere poi dopo sinergici gli eventi con gli investimenti ordinari. Quindi anche per i periodici potrà esserci un futuro? Io penso di sì, cioè la carta non scomparirà assolutamente. Il fatto, come dice il CEO di Time Warner, di poter offrire l'abbonamento cartaceo sul computer o sull'iPad o sull'iPhone o sugli smartphone, è un vantaggio enorme per il lettore. E il contenuto comunque rimane? Il contenuto rimane centrale, di qualità. Deve cambiare moltissimo da questo punto di vista la testa di chi fa i giornali, perché ormai ci sono alcune certezze assolute che sono state descritte molto bene dalla CEO di Alex Springer, che è il caso più virtuoso in Europa, il 40% dei ricavi oggi è dal digitale, il quale ha spiegato che in sostanza non si può ragionare se non in maniera unitaria. Le redazioni possono essere una soltanto, che deve pensare ai varie forme di distribuzione. Il fatto poi fondamentale è che bisogna sconfiggere l'abitudine a cui gli editori hanno concorso ingenuamente della vendita gratuita. Peccato originale di internet, per cui uno slogan efficace, il direttore di Wall Street Journal ha detto che internet è gratis, l'iPad, i tablet invece è a pagamento. In realtà Wall Street Journal è il caso in cui anche internet è fortemente a pagamento. Forse ricordate che quando arrivò la proprietà di Dow Jones, Rupert Murdoch, disse che ha 600-700 mila abbonati a 80 euro all'anno, cosa vuoi che sia, anche se un milione sono 80 mila euro, non risolve il problema, andiamo sulla pubblicità. Poi essendo una persona straordinariamente intelligente, dopo tre mesi si rese conto che era un errore e quindi gli ha tenuti quegli abbonamenti e gli ha sviluppati. Possiamo dire che siamo vicini alla fine dell'era dei contenuti gratis? No, no, questo non è vero, ci sono tanti problemi, le regole devono essere messe, il copyright va rispettato. Occorre dare maggiore valore anche economico alla presenza, ai contenuti veicolati attraverso la rete, giusto? Ma questo è sicuro, cioè insomma il copyright dovrebbe essere rispettato. Se tu mi dai un servizio perché hai creato un motore di ricerca eccezionale che consenta alla gente, compresi i giornalisti e tutti quelli che lavorano nelle case editrici, di poter scoprire immediatamente quello che c'è, facendo per un momento considerazioni a parte dell'esattezza o meno e della strumentalizzazione o meno di quello che c'è sulla rete, però dico tu incassi determinati soldi perché fai questo servizio e lo fai con i miei contenuti. È come se a un certo punto uno ci avesse inventato l'automobile e allora tu mi devi dare la benzina gratis. Bene, concludiamo questa intervista con Paolo Panerai per ADV Express TV, Salvatore Sagone. Grazie a tutti.